Siamo la FAUN 2.0 JA e quest'anno ci rimettiamo in gioco con una nuova mission. Riparte la FAUN 2.0 JA, il programma didattico di educazione imprenditoriale sviluppato e promosso nelle scuole italiane. I ragazzi delle classi 5A e 4A del liceo artistico di Capodorlando, all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro, hanno creato un'impresa di progettazione e produzione di oggetti di design funzionali, innovativi e sostenibili. Il prodotto che l'impresa ha proposto è frutto di vari mesi di lavoro e dalla collaborazione con Pisti SRL, un'azienda che ha scelto per i suoi prodotti come materia prima il pistacchio di Bronte. Dopo vari incontri con l'esperto d'azienda è nato Waste Food, un espositore per prodotti enogastronomici. Tale scelta è scaturita dall'intento di valorizzare il territorio e del volere potenziare la diffusione di prodotti tipici che attraverso un design innovativo e accattivante invoglino a scoprire le bellezze e le bontà della nostra terra, la Sicilia. L'andamento curvo di Waste Food ricorda le onde del mare ed è stato realizzato secondo delle tecniche apprese durante il progetto di alternanza scuola-lavoro presso il cantiere navale di Sant'Agata-Minitello. A conclusione di questo progetto, la FON 2.0 JA parteciperà con Waste Food alla competizione Fiera Regionale Sicilia-Ovest che si terrà venerdì 20 maggio presso l'Ecomuseo del Mare di Palermo.